Era stato liberato dal centro di identificazione ed espulsione di Bari la settimana scorsa a San Musad Atia Mohamed, l'eginziano di 37 anni sospettato dell'omicidio di Antonia D'Amico Mazza, la donna di 52 anni trovata morta dal figlio domenica scorsa nella sua abitazione al quarto piano di Corso Mazzini, a Lodi. Il fatto che quest'uomo fosse stato fatto uscire liberamente dal centro di Bari, ha dichiarato oggi il procuratore capo della Repubblica di Lodi, Vincenzo Russo, necessita certamente di una riflessione ma a livello politico, questa riflessione non possiamo farla certo noi. L'autopsia è in corso all'Istituto di Medicina Legale di Pavia e si cerca ancora l'arma del delitto. I carabinieri hanno fermato l'uomo a Fiumicino mentre stava tornando in Egitto. Si esclude il movente della rapina e prende corpo alla pista di un delitto passionale, dettato forse dalla gelosia. Tra alti e bassi i carabinieri ritengono che la relazione tra i due fosse durata almeno 5 anni.